Ciao a tutti, buonasera, buonasera, sono Melissa di Onda Vitale. Volevo fare questo video per parlarvi del percorso che io e Carlo abbiamo ideato. Io e Carlo siamo due naturopati e siamo coloro che fanno capo all'associazione Onda Vitale, che si occupa di divulgazione riguardo a temi normalmente non trattati o trattati in maniera superficiale da mass media. Naturalmente i temi principali che trattiamo sono la salute e il benessere essendo noi due naturopati ed è un tema negli ultimi anni particolarmente interessante e caldo, a parte che la salute è sempre la base del del benessere in generale perché nel momento in cui viene a mancare questa parte importante non ci facciamo caso quando l'abbiamo, quando stiamo bene, però nel momento in cui ci viene a mancare ci accorgiamo che tutto passa in secondo piano e del resto stare bene fisicamente è la base per fare poi tutto nella vita per dedicarsi all'attività lavorativa, per divertirsi, per pensare diciamo anche a quello che c'è di frivolo perché se avete avrete provato tutti se non si sta bene veramente passa tutto in secondo ultimo piano. Quindi vi volevamo parlare di questo percorso di longevità che abbiamo ideato appunto io e Carlo per accompagnare le persone in un percorso di benessere anche quando non si è più giovanissimi. Quindi indicativamente parliamo da 40 anni in su, 40-45 anni quando iniziano a manifestarsi un po' di disturbi, di fastidi, non necessariamente di malattie ma magari qualche scocciatura dovuta a un carico tossinico un po' elevato oppure a una vita particolarmente stressante oppure al fatto che magari non mangiamo così bene i nostri organi emuntori che normalmente quando siamo giovani funzionano bene anche se mangiamo i sassi, digeriamo lo stesso, quando cominciamo a non essere più giovanissimi chiaramente lo stomaco fa più fatica e l'assimilazione diventa più difficile e le tossine vengono eliminate con più difficoltà. Ecco perché c'è anche la necessità saltuariamente di fare qualche depurazione. Siccome su internet abbiamo uno strumento eccezionale dove troviamo tantissime notizie di tutti i generi però anche fuorviante perché troviamo proprio di tutto di più e le persone possono anche informarsi ed è giusto che lo facciano con questo meraviglioso mezzo tecnologico però ognuno di noi è diverso e non è che tutto cioè se ci sono le indicazioni cosa va bene mangiare cosa va bene escludere è vero in linea di massima è vero in generale ma non è detto che a voi personalmente quel cibo e quella pietanza quell'integratore facciano bene anzi alcune volte fanno male o comunque non fanno nulla di positivo per cui piuttosto che impiegare tempo buttare magari via soldi è opportuno farsi un percorso mirato con due persone che comunque seguono e monitorano la situazione che danno consigli oculati che vi fanno una valutazione attraverso un questionario dove rispondete a delle domande precise in modo che noi ci possiamo fare un quadro della situazione generale e poi ci sentiamo periodicamente per vedere i vostri progressi le vostre difficoltà tutto quanto questo percorso percorso scusate che abbiamo ideato può durare tre mesi o sei mesi a seconda della scelta della persona chiaramente può farlo per tre mesi può farlo per sei mesi e ha a disposizione due naturopati per il periodo in cui sottoscrive questo questo diciamo questo percorso noi siamo sempre disponibili sia whatsapp sia per telefono sia anche su zoom eventualmente comunque se le persone sono vicine le vediamo di persona che è sempre meglio come prima come primo approccio fare una consulenza quindi parliamo di bergamo e provincia se invece sono lontane lo facciamo online ma comunque siamo sempre disponibili per tutto il periodo quindi per ogni dubbio per plessità difficoltà e siamo siamo qui anche per spronarvi perché se una persona fa qualsiasi cosa da solo ha dei momenti in cui magari è meno motivato si lascia andare semplicemente la ginnastica a casa se invece sia in gruppo c'è qualcuno che motiva sia insieme ad altri la cosa diventa più motivante e più sia più voglia insomma ci si mette più in gioco no perché si è seguiti si è accompagnati in un percorso ecco quindi la nostra offerta è proprio questa se volete ulteriori informazioni mandateci pure un whatsapp al 351 582 88 19 oppure mandate una mail a info chiocciola ondavitale.it vi risponderemo prima possibile grazie a tutti e vi invitiamo a prendere in considerazione questo percorso perché è veramente utile per stare bene anche quando come dicevamo prima non si è più nel fiore degli anni non è detto che dobbiamo invecchiare con tante patologie e tante pastiglie anzi ci hanno fatto credere questo ma non è assolutamente così ma possiamo invecchiare bene senza prendere farmaci con un'adeguata attività fisica una sana alimentazione e con sane abitudini grazie a tutti e ciao